Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca. Un trentenne nasconteva in auto 23 kg di cocaina. Un equipaggio della polstrada di Arezzo sul tratto aretino dell'autostrada del Sole aveva fermato l'auto per un controllo. Al volante il trentenne che aveva dichiarato di essere diretto a Roma. Durante l'ispezione però, non avendo trovato irregolarità, hanno permesso al conducente di proseguire il viaggio. Gli agenti non persuasi hanno avvisato le pattuglie delle zone successive di prestare attenzione all'automobile, segnalando anche il suo transito fino a Pian del Voglio. È stato qui sull'Apenino che è stata nuovamente fermata la vettura e questa volta il controllo si è concluso con l'arresto. L'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze superfacenti sono infatti stati rinvenuti nella stessa auto 23 kg di cocaina. Incidente in tarda mattinata a San Giovanni Valdanno alle ore 13.10 circa. I sanitari del 118 dell'Asl Toscana Sud-Est sono intervenuti in via Ponte alle Forche in seguito a uno sconto tra un'auto e una moto. Sul posto sono intervenuti la misericordia di Pian di Scò, l'automedica e le forze dell'ordine. L'uomo di 56 anni in sella sulla sua moto è stato soccorso e una volta stabilizzato è stato trasportato a Careggi in codice 3 con Eric Soccorso Pegaso in gravi condizioni. Demolito il ponte di Cadefrati sulle torrenti Fossatone in località Bagnoro alle porte di Arezzo come prescritto da un'ondinanza della Procura per rischio idraulico. La strada bianca del Riola adeguata nelle ultime settimane sarà il percorso alternativo che aggirerà il punto dove era ubicato il ponte ma la carreggiata per i residenti è ancora troppo stretta. Greta Settimelli. Sì, questo era uno dei punti che erano stati individuati a seguito dell'alluvione del 2019 e tra quelli da demolire. È stato demolito ieri quindi da oggi chi abita dalla parte di qua di Val di Colle o Montoncello dovrà fare un giro differente cambiando le abitudini quotidiane. Siamo al Bagnoro, frazione del comune di Arezzo. Il ponte in questione è stato demolito dopo una ricognizione dovuta all'alluvione del 2019, ritenuto dunque pericoloso, appunto in caso di piogge abbondanti. Speriamo possa essere ricostruita almeno una passerella ciclopedonale, cosa che abbiamo richiesto nell'ultimo consiglio comunale all'assessore Casi che si impegnasse a trovare i fondi per la realizzazione di questa nuova opera, per rimettere in collegamento questi abitanti sia al paese che a tutte le attività commerciali. Un aspetto fondamentale è che con la demolizione di questo ponte gli abitanti di questa zona per raggiungere la prima fermata degli autobus dovranno percorrere più di un chilometro a piedi e invece prima con il ponte raggiungevano a poco più di 100 metri la fermata degli autobus. Chiaramente è un disagio grande che però stiamo seguendo e che speriamo che possa essere realizzata almeno questa passerella ciclopedonale. Adesso il problema è diventata la viabilità, in questo caso che diventa obbligata per tutti coloro che risiedono in questa zona. 200 metri di strada è talmente stretta che non ci si scambia con le auto, quindi l'hanno asfaltata e l'hanno fatto bene perché era ridotta in condizioni miserabili, però hanno fatto un asfalto stretto quindi devono comunque fare almeno un paio di piazzoli di scambio in modo tale che le macchine si possono scambiare. Se arriva un'ambulanza, se arriva quelli dell'Enel o del gas o due macchine non ci si scambiano lì. E mentre le nostre telecamere sono sul posto arriva anche una comitiva che sta effettuando una camminata. Anche loro sono sorpresi dalla demolizione del ponte. Non si può attraversare? Non si può attraversare, ho visto ieri. Ma c'era un ponte qua una volta? C'era, c'era. Fino a ieri? E oggi? Che fine ha fatto il ponte? È cascato? Oltre a questo i residenti vorrebbero salvare questa quercia secolare che dovrebbe essere abbattuta secondo lo studio idraulico. Oggi noi siamo qui per protestare contro l'eventuale abbattimento di questa quercia secolare che è un monumento vegetale. E basta fare una piccola deviazione nei piani di allargamento dell'argine del nuovo vingone e viene salvata. Quindi perché fare la cosa sempre più semplice? Tirare una linea dritta su una carta geografica e dire si passa di qui. Si può fare altrimenti. Da ieri è cominciato al parco del Colle del Pionta l'abbattimento di alberi e arbusti. Al vedere gli operai in azione insorto il Comitato per la difesa degli alberi di Saione dicendo che le piante erano sane e che il taglio è ingiustificato. Molti tagli sono avvenuti vicino al centro di aggregazione sociale all'interno del parco a invocare lo stop agli abbattimenti e la portavoce del Comitato, Simona Coradeschi, che si era già battuta per la salvaguarda del verde nella realizzazione della nuova piazza davanti alla chiesa di Saione. Una squadra di operai sta battendo grandi arbusti di alloro e altri arbiri nei pressi del Cass del Pionta. Le piante sono state tutte identificate come perfettamente sane. Pertanto chiediamo quali siano i motivi di questo taglio. Per noi un conto è la manutenzione del parco che riteniamo importantissima, prosegue l'intervento del Comitato. Un altro è l'eliminazione generale della vegetazione senza un minimo di criterio nell'intervento. Nella nota c'è anche un appello diretto all'assessore Alessandro Casi, che ha le deleghe tra le altre delle opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano. Contestiamo questa iniziativa del suo assessorato, conclude Simona Coradeschi, e le chiediamo di fermarla prima che la ditta faccia tabula rasa in un'importante area del parco. Rimaniamo in attesa di una sua cederissima risposta e vedremo come proseguirà questa vicenda. Scoperta dalla Guardia di Finanza una discarica abusiva al proprietario del terreno è stato denunciato. Chiara Salotti. Rifiuti di ogni tipo, anche speciali e pericolosi, stoccati in una vasta area di vita a discarica abusiva. A fare la scoperta sono stati i finanzieri del comando provinciale di Arezzo. Il terreno agricolo, grande circa 1400 metri quadrati, si trova nel comune di Cortona e secondo quanto appurato dalle fiamme gialle era utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dal testo unico ambientale. Nell'area scoperta non impermeabilizzata era stoccata una grande e variegata quantità di rifiuti da cumuli di materiali di risulta da scavi lavori edili alle materie plastiche, da una lastra di Ethernet in disfacimento a fogli di carta accatramata a diretto contatto con il terreno ed esposti ad agenti atmosferici, tutti rifiuti che avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento. Il terreno è stato quindi sottoposto a sequestro e il soggetto che risultava averne la disponibilità, un imprenditore, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E continuerà ad essere chiuso al traffico il nuovo tratto del sottopassaggio Baldaccio da e per il quartiere di Pescaiola nei giorni 17-18 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19 con il ripristino regolare del transito in piena sicurezza dalle ore 19 alle ore 8.30 del giorno successivo e nei giorni festivi. Nei medesimi orari e giorni dello stesso tratto di viabilità è temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati del tratto della viabilità. Disposizione questa prevista anche per i giorni 21 e 22 di ottobre. I veicoli che percorrono via Alessandro Dalborro dovranno obbligatoriamente svoltare in direzione della nuova rotatoria e potranno uscendo sul vecchio tunnel proseguire su Viale Luigi Cittadini. Dal giorno 21 al 23 ottobre temporanea chiusura al transito della nuova rotatoria di via Baldaccio D'Anghiari con orario dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo con obbligo del ripristino del regolare transito in piena sicurezza dalle ore 6 alle ore 21 del giorno successivo. Negli stessi giorni e nei medesimi orari via Baldaccio D'Anghiari l'auto nuova rotatoria diventa strada senza uscita e di conseguenza i veicoli che la percorrono dovranno obbligatoriamente svoltare su via Montefalco ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio multipiano Baldaccio che potranno proseguire fino all'ingresso del suddetto dei residenti diretti in via Baldaccio D'Anghiari, via Dino Menci e via Filippo Lippi. Per quello che riguarda Viale dei Carabinieri l'auto nuova rotatoria diventa strada senza uscita e i veicoli che la percorrono ad eccezione degli autobus diretti al proprio deposito dovranno obbligatoriamente svoltare su via Carlo Alberto dalla Chiesa. Nuovo sottopasso di via Alessandro Dalborro i veicoli che percorrono tale strada dovranno obbligatoriamente proseguire su via Luigi Cittadini in conseguenza della chiusura del tunnel. E cambiamo decisamente argomento parliamo del fenomeno degli assalti e furti alle ditte ora fiaretine che ha raggiunto quest'anno cifre, ahimè, da record. Gli orafi hanno incontrato il neoprefetto di Nozzo. Chiara Sadotti. Siamo in una fase un po' critica perché siamo molto preoccupati. Solo ad inizio 2024 sono già stati 17 gli assalti alle aziende del distretto orafo Aretino, numeri che preoccupano in un poco l'intero comparto. Un fenomeno portato questa mattina all'attenzione del nuovo prefetto. di Arezzo. È un tipo di produzione che attrae inevitabilmente appetiti da parte di organizzazioni criminali e quindi noi siamo chiamati a dare delle risposte. Siamo soddisfatti della disponibilità che ha dato a continuare questo percorso che avevamo intrapreso con la dottoressa De Luca di sinergia tra noi, tra le forze di polizia, tra la vigilanza privata, tra gli installatori di allarmi. L'ultimo colpo solamente qualche giorno fa messo a segno alla Taitù di Via Ramelli, già presa di mira precedentemente. Prima, dopo un periodo di quiete, a subire un colpo da 300.000 euro era stata invece la Orolinia 2 Italy. Il territorio dove sono le aziende di produzione è molto vasto in tutta la provincia, dislocato in tutta la provincia e quindi ci sarebbe bisogno di un controllo del territorio più preciso e più costante. Ovviamente chiediamo al prefetto di aumentare magari le forze, quindi gli uomini. Un allarme rappresentato già più volte dal settore, arrivando fino all'incontro con il Ministero. Ci sono dei reparti, il reparto prevenzione crimine, che ogni settimana viene destinato proprio alla vigilanza del comparto di produzione Orofa e quindi si tratta sempre di, ripeto, di portare avanti, di sviluppare, di ulteriormente migliorare tutto quello che sta facendo. 400 ragazzi delle scuole hanno celebrato la giornata mondiale dell'alimentazione al polo tecnologico di AISA Impianti Spa a San Zeno. Un evento speciale in collaborazione con Confartigianato Impresi Arezzo per imparare l'importanza della salute del pianeta, del benessere a tavola, del risparmio energetico e dell'uso corretto delle materie prime. Nata per ricordare in tutto il mondo la fondazione della FAO, l'Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il titolo della giornata mondiale dell'alimentazione di quest'anno è stato Il diritto al cibo per una vita ed un futuro migliore. Un principio di giustizia universale per ogni cittadino del pianeta sempre più fragile a causa dei cambiamenti del nostro pianeta, dei conflitti e delle politiche distruttive. All'evento hanno partecipato le classi prime dell'Isis Angelo Vegne di Cortona, le seconde media dell'Istituto Comprensivo Giorgio Vasari, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Monte San Savino e del liceo scientifico-linguistico Francesco Redi. Tre giorni dedicati ai più piccoli da 0 e 6 anni, laboratori di danza, gioco, arti visive e tanto altro all'ottava edizione del Festival Meno Alti dei Pinguini. Sentiamo. Torna dal 18 al 20 ottobre l'ottava edizione del Festival Meno Alti dei Pinguini dedicato all'infanzia 06 con tre giornate all'insegna della scoperta della creatività e della partecipazione. Un'edizione animatissima e piena di collaborazioni che dimostra come in questi due giorni Arezzo si candida ad essere la capitale della riflessione ma anche dell'azione dedicata alle politiche 06 capaci di, come dice il titolo, vedere il mondo dall'altezza dei bambini. L'edizione di quest'anno si ispira alla pedagogia povera della meraviglia. È un approccio pedagogico che nasce dallo studio di un attore che è Antonio Catalano che sarà ospite al Festival durante il convegno iniziale che terrà un laboratorio formativo per le educatrici e gli educatori e poi aperto alla città durante tutto il sabato. Quindi sarà a disposizione nelle sale di fraternita con questo meraviglioso laboratorio. Pedagogia povera della meraviglia è l'idea che non si può educare senza coltivare la meraviglia a tutti i livelli. Quindi ci piace dedicare questo festival davvero ai bambini ma anche agli adulti che possano recuperare questo sguardo. Laboratori, spettacoli, installazioni, tutti gratuiti, saranno aperti a bambini e famiglie senza la necessità di prenotazione. Ci sono attività con la danza, con le arti visive, c'è un grande evento finale domenica e vi invitiamo tutti alla pagina bianca. Dal pomeriggio verrà stesa questa grande pagina bianca in cui sarà possibile lasciare un segno, un messaggio colorato e si formerà grazie all'artista Ivan Tresoldi un'opera d'arte partecipativa che è un po' il gran finale. Tra l'altro sarà attraversata la parata dei bambini con una banda ad aprire e quindi è veramente il momento in cui chiamiamo tutti a partecipare e proprio a rappresentarsi nella pagina bianca. E poi tante attività, laboratori, l'importante è che si sappia che sono tutti laboratori senza prenotazione. Quindi potete venire direttamente e ci sarà sempre un posto per i bambini e le bambine per esplorare gli spazi educativi, per fare le attività. Quindi veramente il desiderio è quello di accogliere tutte le famiglie in questi tre giorni dedicati ai più piccoli. Riccardo Ricci, cantatore ventenne della Valtiberina, si racconta nelle sue canzoni. Lo abbiamo incontrato nei nostri studi al microfono di Greta Settimelli. Faccio arte e cerco di trasmettere un messaggio appunto a chi mi ascolta e chi mi ascolterà quindi la cosa che arde dentro è importante perché qui è la sensazione di tutto. Riccardo è un ragazzo che arriva dall'alta Valtiberina, nell'Aretino, di appena vent'anni. Fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica, prima gli studi, poi l'avventura di scrivere e pubblicare pezzi suoi. Quando nasce questa passione? Ma nasce sin da piccolo, quindi da quando ho sei anni, pensi, mi ricordo anche la data. Canto con mia madre, con mio padre, con i miei genitori e mi ha sempre affascinato l'idea di poter scrivere canzoni, di incidere, di creare appunto singoli che potessero portare poi alla luce dei messaggi importanti soprattutto per noi giovani, che è una generazione molto sensibile e allo stesso tempo vulnerabile e far passare notizie di me attraverso ragazzi della mia stessa età e motivo di orgoglio attraverso delle song che ho il piacere poi di farle ascoltare a tutti quando sono sugli store, quando sono su YouTube, quindi quando sono disponibili al grande pubblico. Ora più che mai non bisogna rendersi, ora più che mai conta solo muoversi. Il sogno nel cassetto diventare un cantante pop affermato. Il sogno di fare il cantante, sì. Il sogno che sto coltivando ormai da due anni e che è veramente difficile perché non è facile, ma ci si sta provando, do tutto me stesso, più la recitazione, è un altro campo su cui mi sto specializzando, appunto a Roma. Il prossimo progetto è in cantiere, uscirà presto, entro fine dell'anno, quindi vi dico di rimanere connessi e di continuare a seguire i miei canali. Sì, allora su Instagram, Firelight, lineetta bassa artist, è rettifico perché in molti si confondono anche con l'acqua lete, cioè fanno delle cose molto importanti. Firelight, H tra la G e la T, tutto attaccato. Fire, fuoco, light, luce. È il fuoco, la luce, ovvero la forza di vedere i sogni, la luce di andare avanti contro tutto e tutti e il fuoco, l'ardore che ci metti, la passione. E niente, quindi anche su YouTube mi potete seguire con il mio canale di riferimento, ovvero Firelight, le mie canzoni che le elenco. Ti aspetterò qui, resta con me, un solo sguardo, Generazione Z, Perfetti Sconosciuti, ora più che mai, 10 ottobre, Vivi e Lascia Vivere. Quindi questa è la mia discografia completa, potete vedere tutti i video lì e su Spotify, sempre con il mio nome d'arte. E passiamo alla pagina sportiva, cominciando dall'Arezzo, attiva la prevendita dei biglietti per la gara Sestri-Levante-Arezzo, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C, che si disputerà venerdì 18 ottobre alle ore 20 e 30 presso lo stadio Giuseppe Sivori di Sestri-Levante. 500 i biglietti per il settore ospite, riservato agli amaranti. I tagliandi saranno acquistabili presso il circuito Etes, www.etes.it, oppure alla Tabaccheria Veri in località Bagnoro, dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19. Il costo è di 13 euro e più il diritto di prevendita. La vendita terminerà alle ore 19 di domani, giovedì 17 ottobre. l'Arezzo ricorda che la biglietteria rimarrà chiusa il giorno della gara. Domattina conferenza stampa di mister Troise, prima della trasferta in Terra Ligure. L'Arezzo attualmente si trova al quinto posto in classifica e non vince mai se subisce gol. Questo è un dato statistico curioso. I cinque successi conquistati finora sono arrivati tutti con la porta inviolata, 1-0 al Campobasso, 1-0 all'Ignago, 2-0 al Gubbio, 1-0 al Ponte d'Era e 2-0 al Sassari. La squadra al momento è in linea con le aspettative e con le ambizioni di inizio stagione. Si trova in piena zona playoff a meno 4 o a meno 7, dipende dal recupero che deve essere effettuato dal Pescara. E stando alla classifica attuale ha vinto tre scontri diretti, Capobasso, Gubbio e Torri. Se ne ha pareggiato uno col Rimini e uno l'ha perso contro la Vis Pesaro. Ma diamo un'occhiata anche ai risultati dei nostri ragazzi in Amaranto, perché nel settore giovanile sono dati bene tre vittorie e un pareggio, tutte in gare esterne. Primavera 4, Sorrento Arezzo 1-2, Under 17, Pianese Arezzo 0-1, Under 16, San Marino Academy Arezzo 0-0, Under 15, Pianese Arezzo 0-5. Quindi complimenti al settore giovanile degli Amaranto, ma rimaniamo nella pagina sportiva e concludiamo con una notizia molto bella. La scuola basket Arezzo, BC Servizi, contro la capolista Costone Siena, vince per 82-81 e proprio la squadra senese è la capolista del Girona. Ma vediamo il servizio di Chiara Sadotti. Colpo della BC Servizi, scuola basket Arezzo, che vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato lì Serie B contro la capolista Costone Siena. Una partita intensa e vibrante che nel secondo quarto ha visto la formazione ospite condurre con autorità prima di subire la rimonta retina. La partita si apre con una tripla di toia che prova a dare energia alla squadra e che tocca il 9-3 su un canestro di Lemmi. La Vismedere insegue poi piazza un parziale di 7-0 che permette alla squadra di coach Belletti di passare a condurre fino al 25-21 della prima sirena. Il momento positivo degli ospiti prosegue poi anche nel secondo quarto e le due squadre vanno a riposo sul 46-36 in favore degli ospiti. A rientro in capo si vede un'altra BC Servizi che aggancia subito gli avversari riscaldando anche il Palace Portestra. Nel momento di difficoltà la Vismedere si affida al tiro da tre con una percentuale che per larghi tratti della partita è stata ben oltre il 50% di realizzazione. La SBA però vende cara alla pelle e con le unghie rimane incollata agli avversari. Molto avvincente l'ultimo quarto con un continuo superarsi tra le due squadre. A 5 minuti dalla fine il costone prova a dare una spallata importante e conquista 5 punti di vantaggio a 2 minuti dalla fine. Quando sembra finita Bischetti accorcia le distanze e poi è in difesa. Prima prenga poi Bischetti portano così la SBA a 82-81 a 19 secondi dalla fine. Nell'ultimo possesso la BC Servizi spende con oculatezza il faldo a disposizione prima di raggiungere il bonus lasciando solo 4 secondi e 6 decimi agli avversari per trovare il tiro della vittoria. Sulla rimessa per la Bismederi però sono le mani di Calder a sporcare un pallone che finisce a fatica nelle mani di Pauli che non riesce a segnare da 9 metri facendo esultare sulla sirena il pala sport extra. Adesso un giorno di riposo per gli amaranto prima di tornare a preparare un'altra grande sfida in programma domenica prossima quando al palaestra arriverà la stosa virtuosiena dell'ex coach SBA, Marco Evangelisti. Quando io dico che le partite vanno giocate col cervello per 40 minuti senza mai dover concedere regali all'avversario è questo perché poi si decidano l'ultimo secondo oggi siamo stati bravi dopo l'intervallo a rientrare in un minuto e mezzo e poi da lì è diventata una partita punto a punto sui nervi dove ovviamente Costone super squadra ci ha punito sempre anche quei giocatori che magari avevamo deciso un po' di rendere un po' più liberi perché ci stavamo preoccupando di altri però poi alla fine direi che il nostro successo è ampiamente meritato e insomma è orgoglio di aver vinto questa partita qua. Queste sono le partite con una squadra che non aveva mai perso bisognava dare tutto, abbiamo dato tutto e questo ha pagato. Siamo stati bravi anche se loro ci hanno fatto un break a restare lì e rientrare all'inizio terzo quarto concentrati e comunque rimettere subito in parità e poi insomma siamo stati più bravi di loro nei momenti decisivi abbiamo gestito meglio i possessi e oggi siamo noi che festeggiamo. perché loro sono stati in partita tutto il tempo e sono andati sopra diverse volte però noi siamo stati bravi a rimanere lì con la testa sempre sulla partita alla fine il canestro di Bischietti ha cavato qualche soddisfazione è una vittoria veramente che fa godere. E questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito buona serata con i nostri programmi di Arezzo TV Grazie per aver guardato i nostri programmi di Arezzo TV